In questi giorni si sta parlando molto del Lilial a causa dei sequestri che stanno avvenendo nel nostro paese e non solo di cosmetici che lo contengono. Stanno circolando molti articoli molto allarmistici, mi avete mandato un sacco di richieste e quindi proviamo a fare un po' di chiarezza. Il Lilial Obutilfenilmetilpropional o BHMCA è una fragranza, cioè un profumo che sa di mughetto e si è sempre utilizzato nei cosmetici e non solo, anche nei detersivi, nei prodotti per la pulizia della casa, proprio per questo suo profumo. Come molte fragranze, anche di origine naturale, il Lilial è un allergenico e quindi era già guardato a vista dagli enti che si occupano di vigilare sulla nostra sicurezza ed era inserito nell'allegato 3 del regolamento 1223 che è il regolamento cosmetico che appunto stabilisce quali sono le norme dei cosmetici che vengono commercializzati in Europa. L'allegato 3 è quello delle sostanze che sono vietate salvo entro certi limiti, cioè vengono stabilite in maniera molto molto rigida quali sono le concentrazioni massime che si possono utilizzare e spesso anche quali sono le condizioni da usare. Quindi di Lilial se n'è sempre potuto mettere molto poco e doveva essere ovviamente indicato in etichetta in modo che le persone allergiche potessero individuarlo facilmente. Oltre a essere allergenico però il Lilial aveva anche altre magagne e questo lo accomuna a tantissime altre fragranze di origine sintetica ma anche di origine naturale, pensate agli oli essenziali e a tutti i danni che possono fare. E quindi il Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori, che è l'ente scientifico che lavora per la Commissione Europea e che si occupa di fare la valutazione della sicurezza degli ingredienti cosmetici, nel 2019 ha valutato il Lilial come sicuro se utilizzato nei cosmetici ma non sicuro a causa della sua esposizione multipla. Adesso vi spiego che cosa significa. Ci siamo già detti più volte che nella valutazione della sicurezza di un ingrediente si prendono in considerazione il pericolo che è assoluto ed è intrinseco a quella sostanza. Faccio sempre l'esempio della tigre che è un animale che è pericoloso di per sé in quanto animale selvatico, aggressivo, insomma ce l'ha un po' tutte. Poi però c'è anche il rischio e cioè le condizioni con cui noi incontriamo quell'ingrediente o quell'animale. Se la tigre è messa in gabbia rimane pericolosa però per me non è rischiosa perché perché io sono protetta dalla sua gabbia. La stessa cosa vale per gli ingredienti. Un ingrediente può essere pericoloso però può essere messo nelle condizioni, cioè in gabbia, di non rappresentare un rischio per la mia salute. Dagli studi effettuati per valutare il pericolo, quindi la caratteristica intrinseca di quella sostanza, si è visto che il Lilial può essere tossico per la riproduzione, quindi per l'apparato riproduttivo, e ha dimostrato di avere una certa attività di interferente endocrino, cioè va a interagire col nostro sistema ormonale e può provocare dei problemi. Questo è il pericolo e si riferisce peraltro a studi condotti in vitro, cioè su cellule, oppure in vivo su animali, quindi non su esseri umani. Il passaggio successivo consiste nel valutare il rischio, e cioè se questa sostanza pericolosa rappresenta un rischio per la nostra salute. E questo si fa facendo ovviamente degli altri esperimenti, degli altri test, e arrivando a calcolare un numero alla fine, che viene chiamato margine di sicurezza, con l'acronimo MOS dall'inglese margin of safety. Questo numero si calcola prendendo la dose che ha dimostrato di provocare dei problemi, per esempio negli esperimenti sugli animali, e la si divide per la dose di esposizione sistemica, cioè quello che viene assorbito dal nostro organismo nell'uso dei cosmetici nella vita di tutti i giorni. Si parla di quantità minuscole, perché? Perché la nostra pelle è una barriera che funziona molto bene, e quindi non lascia passare gli ingredienti, anche se poi le pubblicità ci dicono che gli ingredienti penetrano. Però, insomma, di questo magari ne parliamo in un altro video. Vi rimanga come concetto che la stragrande maggioranza degli ingredienti se ne sta fuori, non ha nessuna possibilità di superare la barriera della pelle. Questo significa che se ne passa molto poco, il pericolo di quella sostanza potrebbe non rappresentare un rischio per la nostra salute. Perché? Perché magari le quantità che riescono a superare la barriera sono talmente, talmente piccole che non provocano nessun tipo di problema. Questa cosa, ovviamente, gli enti che si occupano di vigilare sulla nostra sicurezza l'hanno misurata, arrivando a calcolare questo MOS per le diverse categorie di cosmetici. Quando il MOS è superiore a 100, il cosmetico viene considerato sicuro. Perché? Perché significa che per avere un danno di qualche tipo bisognerebbe utilizzarne 100 volte tanto rispetto a quello che si utilizza normalmente. E quindi, se noi andiamo sul sito del Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori e andiamo a cercare i MOS per le singole categorie di cosmetici, troviamo che sono tutti più alti di 100. Nel caso dei profumi abbiamo circa 300. Nel caso degli shampoo, per esempio, si arriva addirittura ad avere un MOS di 20.000. Cioè noi, per avere un qualche problema con l'uso di uno shampoo che contiene il Lilial, dovremmo usarne 20.000 volte al giorno quello che normalmente usiamo. Capite che sono numeri esagerati. E quindi, questo è il motivo per cui il Comitato Scientifico ha detto nei cosmetici è sicuro. Perché? Perché se ne usa talmente poco che non rappresenta un problema. Anche se uno si usa il profumo, si usa lo shampoo, si usa la crema, eccetera, eccetera. Sono sempre quantità molto molto piccole che non rappresentano un rischio. E quindi qual è il problema? Il problema è che il Lilial è usato dappertutto. Non nei cosmetici, ma nei detersivi, è usato nei prodotti per la pulizia della casa. È uno dei grandi problemi, questo qui, delle profumazioni che sono messe dappertutto. Questa cosa fa sì che il Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori non sia in grado di stabilire lo scenario di esposizione. Perché? Perché loro si occupano dei cosmetici. E quindi non ti possono valutare l'esposizione multipla quando tu hai una diffusione così ampia dell'uso del Lilial in tantissimi prodotti. E quindi il Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori ha concluso dicendo che per quanto l'uso nei cosmetici sia sicuro, l'effettiva esposizione non si può conoscere. Perché? Perché è dappertutto. E quindi che cosa è successo? È successo che la Commissione Europea ha preso questo parere del Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori e ha scelto di vietare l'uso del Lilial all'interno dei cosmetici. Ma non l'ha vietato perché c'è un rischio imminente, perché è tossico, genotossico. Oggi sui giornali ho letto veramente di tutto. L'ha vietato perché era talmente utilizzato ovunque che almeno nei cosmetici ha detto va bene. Da lì lo togliamo. Perché? Perché non siamo in grado di stabilire il margine di sicurezza effettivo. Il risultato è che a partire dal primo marzo del 2022 i prodotti cosmetici non possono più utilizzare il Lilial o BHMCA. E che cosa è successo in questi giorni? È successo che la Guardia di Finanza ha beccato dei lotti di prodotti che contengono ancora il Lilial. Si tratta di prodotti vecchi che evidentemente non sono stati ritirati dal commercio quando dovevano essere ritirati dal commercio. Però questa in realtà è una buona notizia. Infatti io non capisco veramente questo allarmismo che sta circolando. Al di là del fatto che ovviamente i giornali che stanno facendo questi articoli allarmistici lo fanno perché sanno che questi articoli qui vendono. Insomma fanno fare click e vengono diffusi molto. E quindi un'ampia diffusione vuol dire più introiti dalle pubblicità eccetera eccetera. Però al di là della questione puramente commerciale legata appunto a questi modelli di business poco corretti di molti giornali non riesco a capire l'allarmismo di fronte alla dimostrazione che il sistema funziona. Il sistema ha stabilito che una sostanza non si può più usare quindi è vietato utilizzarla. Le aziende non lo possono fare. Se lo fanno stanno contravvenendo alle regole. I negozi non possono vendere i prodotti che contengono quella sostanza perché? Perché ormai un anno e mezzo che è scaduta e quindi avrebbero già dovuto buttare via tutte le scorte contenenti quella sostanza lì. Se un negozio continua a vendere un prodotto vecchio che contiene una sostanza non più autorizzata beh sta contravvenendo anche lui alle regole. Il fatto che ci sia un sequestro da parte della guardia di finanza è un segno che i controlli ci sono e che funzionano. E quindi dovrebbe tranquillizzarci tutto questo sistema. Perché inseguiamo continuamente questi allarmi e ci piace, li condividiamo e ogni volta ci caschiamo? Cioè ma perché lo facciamo? Perché non riusciamo a fidarci delle istituzioni? Vi lascio con questa così domanda che ovviamente è una domanda retorica lo so bene perché non ci fidiamo delle istituzioni. Spero che il mio lavoro e che il lavoro delle tante persone che fanno informazione in maniera responsabile possa servire a ridurre un po' questo continuo lancio di allarmi che non fa bene a nessuno. Ciao!